Ciao a tutti, è tornata la rubrica I Dischi Trash, perché questo disco non è ancora apparso nella mia rubrica ed è scandaloso. Il disco in questione è America, Why I Love Her, di niente po' di meno che John Wayne. John Wayne che ha inciso un disco? Ebbene sì, nel 1973, se non erro, 73, sì, l'americano per eccellenza, noto anche per il suo forte patriottismo americano, che però è comico il fatto che non abbia mai fatto il servizio militare né che sia mai sceso in battaglia per difendere il suo amato paese, ha inciso un disco per millantare l'amore del suo paese, diciamo, con una violenza che neanche le peggiori sette religiose, con le sette religiose, con dei volantini sui dogmi, esatto, cioè molto peggio. Il disco in questione è involontariamente ridicolo e ti spinge a delle risate apocalittiche, cioè veramente delle cose assurde. In sostanza John Wayne non canta neanche una nota, ed è uno di quei tonfi, no, il disco in generale è uno di quei tonfi di una carriera, di un'icona, anche se vogliamo, un'icona, cioè proprio un tonfo da dimenticare, che però io riporto alla luce, perché è giusto così. Anche Giovanotti che ora ha una sua dignità artistica, ha un passato trash che tenta di celare, ma io lo riporto a galla, ecco, è la stessa cosa. Sì, John Wayne non canta, almeno questo non lo fa, però cosa fa? Vuole dimostrare l'amore del suo paese attraverso lo spoken word, ovvero c'è lui che con la sua voce recita delle poesie di ammirazione per la sua patria, trasfigurando, cioè mettendo anche in risalto i motivi per cui la sua patria è la migliore in assoluto. E lo fa con il sottofondo degli immi americani, con l'orchestra, e vi vedete proprio la bandiera stelle e strisce che si gonfia, trasportata dal vento in una danza, cioè è proprio una cosa poraccissima alla fine. Cioè la cosa che mi turba è che probabilmente una famiglia americana su tre possiede questo disco. Cioè io sono quasi convinto di questa cosa. Però c'è veramente, lo ascoltate, magari guardate, ecco, ascoltatelo, mentre guardate un video di 40 minuti di un ruscello o di un bosco americano, quegli ambienti lì vi creerà un pato sull'atmosfera alla quale non saprete resistere in sostanza. Come al solito vi lascio il link in descrizione per ascoltare questo capolavoro. Fatemi sapere se lo conoscevate perché è una perla rara. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!